Dopo il boom di casi di morbillo che ha colpito Padova e provincia, l'USL6 lancia una campagna di vaccinazioni. Vaccinarsi è una libera scelta, non c'è nessun obbligo, questo è giusto specificarlo. Nel mese di marzo 34 persone hanno contratto la malattia nel nostro territorio. 21 adulti, 13 bambini, per 17 è stato necessario il ricovero. Ad oggi un 27enne ancora in gravi condizioni all'ospedale di schiavonia per insufficienza respiratoria, una delle complicazioni del morbillo. La settimana contro il morbillo partirà sabato 1 aprile e durerà fino a sabato 8 aprile. Durante questo periodo gli ambulatori delle vaccinazioni saranno aperti per bambini, adolescenti, giovani e adulti. Chi lo riterrà opportuno potrà vaccinarsi senza appuntamento nelle sedi USL di tutta la provincia.